Ciao a tutti ragazzi, allora oggi è un vlog più che un video tutorial o cose del genere Cosa andiamo a fare oggi ragazzi? Ebbene sì, oggi andremo a fare un esperimento scientifico Cosa andremo a fare quindi oggi? Allora, io andrò a spegnere una candela Ma non la spegnerò semplicemente con un soffio Io spegnerò questa candela, ok? Questa, con la CO2 Quindi devo creare la CO2 Per creare la CO2 ragazzi, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un barattolo, ok? Abbiamo bisogno di un tappo che andrò a cerchiare Ok, abbiamo il tappo Perfetto Cosa andiamo a mettere dentro il barattolo della marmellata? Andiamo a mettere un po' di aceto di miele Ok? Poi andrò di più Ok? E poi mettiamo immediatamente Cioè immediatamente, appena ho tempo Mettiamo questo Carbonato di sodio Sì, bicarbonato di sodio Allora insomma Mettiamo dentro e chiudiamo subito Ok Va bene? Cerchiamo di renderlo più ermetico possibile E adesso ragazzi Andrò a spegnere questa candela Soltanto con l'aria presente qui dentro Soltanto con l'aria presente qui dentro